Grazie. Ah aspetta, ok, rimani comunque qui giusto, non ti sposti. Ok, tra un minuto si inizia. Siamo in questa sala, la 1 dico, la 1, Marco Butto giusto? Buongiorno e benvenuti in track 1. Il nostro primo speaker della giornata è Marco Butto che ci parlerà dei telescopi e delle loro applicazioni in Sardinia con Python. Grazie per essere venuti a quest'ora innanzitutto. Mi chiamo Marco Butto e lavoro per l'Istituto Nazionale di Astrofisica che è un ente pubblico che fa ricerca scientifica per l'appunto nel campo dell'astrofisica. Non sono astronomo ma sono un ingegnere elettronico e mi occupo di sviluppo software per il Sardinia Radio Telescope. Non so, quanti di voi sanno cos'è un radiotelescopio? Due, siamo praticamente alla metà. Allora faccio una brevissima introduzione sul radiotelescopio perché poi voglio farvi vedere dei casi d'uso di Python là da noi. Innanzitutto il radiotelescopio non lo gestiamo solo in Sardinia ma è gestito a livello nazionale dall'INAF in parte e siamo tre istituti tra Bologna, Cagliari e Arcetriche qua vicino a Firenze. Questo è il radiotelescopio, è un grande bestione, è anche nuovo perché è stato completato da due anni, due anni fa. Questo è il giorno dell'inaugurazione, circa fine 2013. E' tra i più grandi al mondo, ha un'altezza di 72 metri, ha uno specchio primario che è costituito da 108 pannelli di alluminio. Adesso se avete due minuti vi faccio vedere un video così capite cosa sono. Il diametro di questo specchio primario è di 64 metri. La superficie attiva significa che questi pannelli si muovono per compensare le deformazioni dello specchio in funzione dell'elevazione perché il telescopio pesa 3000 tonnellate quindi si deforma con la gravità quando si sposta in elevazione. Faccio vedere un attimo di video se avete due minuti così capite cosa sono questi pannelli che deformano la superficie. e quindi ci sono 108 di questi pannelli è una caratteristica abbastanza importante. C'è anche un altro radiotelescopio in Sicilia che è il gemello di questo e utilizza sempre lo stesso criterio con la superficie attiva che tiene costante la superficie con il variare dell'elevazione. E' il più moderno in Europa, fa movimenti di precisione sino a un 10 millesimo di grado. Poi abbiamo della componentistica all'avanguardia sia dal punto di vista elettronico che meccanico. E' tutto remotizzato e abbiamo dei dispositivi di acquisizione digitale che sono praticamente allo stato dell'arte. Poi è stato completato nel 2012. E' stato collaudato meccanicamente nel 2012. Un po' di pubblicità perché ha contribuito ai costi il Ministero dell'Istruzione e la Regione Autonoma della Sardegna, principalmente poi l'Agenzia Spaziale Italiana. Come vi ho detto è gestito dall'Osservatorio Astronomico di Cagliari, dall'Istituto di Radioastronomia di Bologna e dall'Osservatorio Astrofisico di Arcetri. E' in corso la validazione scientifica. Cosa significa? Sostanzialmente all'INAF siamo, per semplificare, una parte di tecnici e una parte di ricercatori. Quando ci è stato consegnato il radiotelescopio, a fine 2012, è iniziata la validazione tecnica. Significa che noi abbiamo testato e validato tutta la parte di nostra competenza che andava dall'elettronica, sino a tutto il software, dal basso livello sino al software di alto livello. L'abbiamo impiegato circa un anno e adesso è in corso la validazione scientifica. Significa che la parte scientifica dell'INAF sta verificando che il radiotelescopio si comporti come ci si aspetta dal punto di vista scientifico delle prestazioni. Vi faccio vedere brevemente come funziona. Si muove innanzitutto in azimut e in elevazione. Non so se sapete cosa voglio dire. In elevazione significa che il grande specchio si muove così, in azimut che ruota. Quindi copre tutto il cielo al di sopra di 5 gradi. Supponiamo che una sorgente metta onde radio. Si punta il radiotelescopio verso la sorgente. Il segnale illumina lo specchio primario, viene riflesso verso un altro specchio di 8 metri di diametro che sta a 20 metri d'altezza. Quest'altro riflette su un tamburo dove ci sono dei ricevitori e questi ricevono il segnale. Oltre a questo tamburo ha uno spazio vuoto dove non c'è un ricevitore, quindi quando selezioni quella posizione il segnale va a finire giù su un'altra stanza di tre piani. Passa un altro specchio, su un terzo specchio e questo qua lo riflette su uno di altri quattro specchi per selezionare un altro ricevitore. Questo è sostanzialmente il funzionamento del radiotelescopio. Perché serve? Serve per fare ricerca scientifica principalmente. Lo usiamo soprattutto per le pulsar, perché le pulsar sono degli oggetti molto particolari, carini, che vengono utilizzati anche per verificare dal punto di vista sperimentale la relatività generale. Abbiamo un gruppo molto forte a Cagliari che viene utilizzato principalmente per le pulsar adesso. Questi scopi più pratici sono Geodinamica e Radar Astronomia. Ecco, iniziamo a parlare di software. Che software sviluppiamo al radiotelescopio, cioè per il radiotelescopio? Diversi tipi di software. Innanzitutto facciamo anche hardware. Facciamo hardware perché abbiamo dispositivi che sono molto particolari come ricevitori, che devono lavorare a temperature bassissime, a meno 250 gradi. Quindi là diciamo che si lavora di esperienza e si realizza tutto a manina. Si fa un tuning alla fine, sono dispositivi costosi, delicati, costano centinaia di miglia di euro. In questo momento ne abbiamo tre radiotelescopio. Poi sviluppiamo il firmware per le schede di controllo, protocolli di comunicazione. Sviluppiamo in HDL, che non so se sapete, sono quei linguaggi che ti permettono di programmare dell'hardware, come Verilog o VHDL. Questo è quello che facciamo a basso livello. A alto livello ci occupiamo del controllo della movimentazione del radiotelescopio, sia dello specchio primario che di tutti gli altri servosistemi che muovendosi indirizzano il raggio sul ricevitore selezionato. Controlliamo la superficie attiva, che è la superficie dello specchio primario che avete visto che ha quei pannelli. I sistemi di acquisizione digitale, poi abbiamo sistema di metrologia, dobbiamo controllare le interferenze, poi lavoriamo su interfacce grafiche e la gestione dell'osservazione, che sarebbe il software con cui si interfaccia direttamente l'astronomo, che poi gestisce tutta l'osservazione. E poi vari software di altro tipo, a partire da quelli, dal sito web, dal sistema di archiviazione, che è ancora in fase di studio, altre cose che vedremo pian piano. Quanti dati produce il telescopio? Dipende dal tipo di osservazione, ma attualmente si può arrivare anche a terabyte al giorno. Ma dipende veramente dal tipo di osservazione. Puoi produrre dei megabyte o puoi produrre dei terabyte. Dipende dal dispositivo di acquisizione, da quanto è raffinato lui. Faccio una breve carrellata storica. Io sono arrivato all'INAF nel 2008. Nel 2008 praticamente Python non era utilizzato. Era utilizzato pochissimo perché era considerato un linguaggio di scripting. e gli sviluppatori, i miei colleghi, gli preferivano il C++. Non si fidavano di Python. E neppure quelli che hanno sviluppato il framework che utilizziamo per lo sviluppo delle software di controllo. Diciamo che Python è stato messo un po' in un angolino. Gli astronomi usavano Fortran e IDL, principalmente perché ci sono un sacco di librerie, hanno reeditato questo dall'università. E per il web si erano orientati su altro. Altro! Due mesi dopo che iniziò a lavorare, fui mandato per fare un po' di training a Bologna e feci una presentazione su Python. Di due ore mi ho detto ok, sicuramente li convinco, mi faranno programmare in Python. Probabilmente anche loro. Invece solamente in C++ per il resto della... E mi è andata bene perché l'altra alternativa era Java. Attualmente lo utilizziamo praticamente ovunque. A basso livello, questo non per nostra scelta, però utilizziamo delle librerie di comunicazione con alcuni dispositivi di acquisizione digitale che sono scritte in Python. Tutto il resto è per nostra scelta. Cioè il controllo dell'antenna, utilizziamo Python per sviluppare dei... Per modellare i dispositivi hardware di basso livello. Per implementare dei client del nostro sistema di controllo. Poi ve lo spiego adesso in un attimo di cosa sto parlando. Per eseguire test delle interfacce. E poi forse per realizzare le API del sistema di controllo. Anzi, non forse ma probabilmente. Il software di utilità per gli astronomi adesso, come vi farò vedere negli ultimi anni, è stato scritto praticamente solo in Python. Il sito web è sviluppato con Django. Per quanto riguarda l'interfaccia per gli utenti e il sistema di archivazione e via dicendo, anche qua siamo orientati con Python. Adesso vi faccio vedere perché è cambiato il modo di vedere le cose. Allora, vi parlo del sistema di controllo. Si chiama Nuraghi innanzitutto. È un sistema distribuito. È il sistema che gestisce l'osservazione. Significa che il sistema con cui si interfaccia l'utente per eseguire le sue schedele e portare avanti l'osservazione. E controlla tutti i vari dispositivi hardware che abbiamo in antenna e non solo, ovviamente oltre che controllarli fa anche il monitoring per sapere come sta andando lo stato delle cose. È sviluppato con un framework che probabilmente qua non conosce nessuno, anzi quasi, che si chiama ACS. Fornisce un modello oggetti distribuito che è basato su corba e strumenti per il monitoraggio delle grandezze. Significa che puoi definire delle property e andare a monitorare i livelli di questa grande, ad esempio di una corrente, di una tensione. Poi lui automaticamente lo monitora e nel caso in cui vada fuori una soglia che gli ha indicato, ti segnalano un allarme. E ha queste faciliti qua. Abbiamo un sistema di gestione degli allarmi per l'appunto di logging centralizzato. E poi la possibilità di sviluppare sia in cpp, sia in python, sia in java. I componenti di Nurag e come sono organizzati? Sono su tre livelli, diciamo. I componenti di basso livello li modelliamo in questo modo. Sostanzialmente abbiamo dei dispositivi hardware, di cui facciamo un modello che chiamiamo component. Al di sopra di questo creiamo un altro component che supervisiona dei componenti di più basso livello con stessa omogeneità funzionale. Vi faccio un esempio. Abbiamo tre ricevitori. Per ogni ricevitore, ogni ricevitore è modellato come un component. Poi abbiamo un altro component che supervisiona tutti e tre ricevitori. Tipicamente non si preoccupa di qual ricevitore ha sotto, perché definiamo un'interfaccia generica per ricevitore, quindi lui, in base alla configurazione che gli diamo, va a configurare il ricevitore che c'è sotto. Al di sopra di tutto c'è un supervisore che coordina tutti i sottosistemi. L'utente utilizza attualmente il sistema tramite una console dei comandi. Questo è uno schema di base di Nuraghe. Questi sono tutti i sottosistemi. Abbiamo un sottosistema per la metrologia, uno per i ricevitori, per semplificarla, uno per scegliere il percorso che deve fare l'onda per andare a impattare sul ricevitore che si vuole selezionare, uno per movimentare lo specchio primario e via dicendo. Come vi ho detto, questi sottosistemi sono raggruppati per omogeneità funzionale. Dove viene utilizzato Python? Python viene utilizzato, come potete vedere, quasi ovunque. La console di input è scritta in Python, l'implementazione dei component in parte è scritta in Python. Abbiamo dei simulatori che sono scritti in Python, principalmente la parte che ho fatto io, il simulatore l'avevo scritto in Python, i test li scriviamo in Python. Simulatori perché? Perché il radiotelescopio ci è stato consegnato nel 2012, ma noi avevamo iniziato a sviluppare software dal 2004 forse. Sono arrivato nel 2008, ovviamente non potevo lavorare con l'hardware, quindi mi sono fatto un simulatore, quello l'avevo fatto in Python. Vi faccio vedere un caso d'uso divertente. Per me è stato divertente perché è stata la prima volta in cui ho potuto sviluppare in Python, è stato sette mesi fa. Perché prima, come vi ho detto, non c'era tanta fiducia su Python. Stavamo lavorando alla fine del commissiono in tecnico del radiotelescopio. Eravamo straincasinati perché avremmo dovuto finire entro dicembre. Ci avevano detto dal bordo che sarebbe passata una cometa radente vicino alla Terra, entro poche settimane sarebbe arrivato al punto in cui l'osservazione sarebbe stata ottimale. e ci chiesero se era possibile osservarlo con uno spettrometro. Ma in quel momento non avevamo uno spettrometro che era integrato nel nostro sistema. E quindi siamo riuniti tra Cagliari e Bologna per trovare una soluzione. Una soluzione che non stavamo trovando perché non c'era proprio tempo. Mancava una settimana. Gira e gira, non si trovava una soluzione. Allora, siccome scrivere un client Python per il nostro sistema è molto semplice. Queste poche linee di codice sostanzialmente configurano il sistema e ti permettono già di fare un'osservazione. Non c'è nessun controllo, ovviamente. Però con queste tre cose puoi già fare qualcosa con questo poco codice. Quindi cosa mi è venuto in mente? Mi è venuto in mente di schedulare tutta l'osservazione con un client Python. Perché, ok, si poteva fare anche il GPP, ma non c'era tempo. Mentre il Python, io stimavo che in pochi giorni l'avrei potuto fare. Quale è questo? Uno scheduler all'interno del nostro sistema che andava a gestire tutti gli altri sottosistemi ottimizzato per quel tipo di osservazione. Complessivamente è 750 linee di codice Python. Abbiamo osservato una settimana senza intoppi. Abbiamo aggiustato le cose che stava facendo, come immaginate, cioè facendo le cose anche in modo interattivo, facendo le prove così, i tempi irrisori di modifica. E là diciamo che Python si è guadagnato la fiducia di tutti. Abbiamo fatto un meeting poi all'inizio del 2014 per scegliere la strada a intraprendere per il futuro, per i vari progetti. Non li ha contate, ma penso che Python sia stata la parola più utilizzata durante quel meeting. Infatti ci siamo orientati su Python per tutti i progetti futuri di cui vi parlo adesso brevemente. Uno è il sistema di archiviazione dei dati, perché produciamo una grande mole di dati. Oltretutto i requisiti sono incerti. Non sappiamo cosa vogliamo archiviare, non sappiamo veramente perché ognuno ha le sue idee. Gli astronomi dicono questo, no questo qua me lo porto io, me lo tengo su un mio disco, me lo porto a casa. Ognuno ha le sue idee, diciamo. Comunque il caso peggiore è quello di terabyte all'anno. Forse vogliamo la ridondanza dei dati, forse vogliamo distribuire l'hardware su più sedi. Ci serve un'autenticazione e autorizzazione. I dati, ad esempio, probabilmente saranno dell'astronomo che ha condotto l'osservazione per il primo anno, per i primi due anni, mentre poi saranno resi pubblici. E soprattutto vorremmo fare computazione sui dati. Nel senso, un dato, un'osservazione di un terabyte, l'astronomo vorrebbe prima magari fare un quick look prima di potersela scaricare e quindi vorremmo poter fare delle computazioni anche customizzate da remoto, l'utente vede il risultato e poi decide se fare una richiesta oppure no. Vogliamo un sistema che scali, che sia indipendente dall'hardware e che il software che lo gestisca sia indipendente dall'hardware. Quindi ci serve, insomma, un'infrastruttura hardware che non abbiamo, un software che lo gestisca e che astraga dall'hardware e via dicendo. Poi soprattutto personale, competenze e tanti soldi. Questo in poco tempo. Non abbiamo niente di tutto questo. Però la soluzione che a me è venuta in mente è il Mestack. Ci mancano le infrastrutture, cioè ci manca l'hardware, in sostanza il personale e la conoscenza di OpenStack che richiede esperienza. Però a pochi chilometri da noi c'è il CRS4. Forse qualcuno di voi lo conosce perché quasi ogni anno vengono qua alla conferenza e solitamente fanno dei talk. Infatti li ho conosciuti qua. Avevano un talk l'anno scorso su OpenStack. Quindi siamo orientati su questa soluzione qua. Loro si occupano della parte di infrastruttura mentre noi ci occupiamo della parte di applicazione. E questo è più o meno uno schema di quello che ho in mente. Per la parte di applicazione stavo pensando a Django. Tutta la parte di sotto è questa che vedete qua. Manca la parte di autorizzazione che non ho disegnato. Però questa parte di sotto è quella che prevedo che realizzino loro con OpenStack. Probabilmente utilizzeranno Selleri. sono dei pythonisti quindi anche questa parte di sotto sarà in python e la parte di sopra ugualmente. Un'altra cosa. Per dialogare con Nuraghe Nuraghe è come vi ho detto il sistema di controllo. Per dialogare con Nuraghe attualmente è necessario istitare questo framework che si chiama ACS. Questo framework è poco documentato. Quella poco documentazione che c'è risale al 2004 quindi è meglio non vederla perché si confonde. La libreria è ferma a Python 2.5 e soprattutto ci sono tanti bug. Il codice è scritto se debba studerlo coi piedi che ti scoraggia a sviluppare in python con ACS. Per avere una release note ti devi mettere in ginocchio e chiedela in ginocchio perché non è disponibile pubblicamente. Ferma a quattro versioni precedenti quella pubblica. E quindi abbiamo scritto una marea di codice che è ACS Legacy però vorremmo limitare questo e vorremmo soprattutto che nelle applicazioni scritte da ora in avanti perché anche gli astronomi iscrivono nelle loro applicazioni i loro client per gestire il back end dell'antenna e non vorremmo che utilizzassero ACS perché innanzitutto si perde tanto tempo per studiarlo perché non è documentato e due perché ti vincola un certo sistema operativo ti vincola a utilizzare le tecnologie che è Python 2.5 ad esempio e vedi scorrendo. Quindi stiamo pensando di definire delle app che permettono di interagire con Nurage con il linguaggio che uno vuole e in modo più semplice con il sistema operativo che vuole senza doversi installare ACS. per questo stiamo pensando di utilizzare Salary per dialogare con Nurage pubblicare gli stati con Socket.io probabilmente definire delle app i rest e poi sopra di tutto ci saranno le app i rest mi sto orientando ho visto un talk ieri su IVE ma ce n'è anche uno su Django quindi credo che saranno quelli gli strumenti i tool e sopra che gestisce tutto sia la gestione di Proposal cioè Proposal intendo quando il radiotelescopio sarà aperto alla comunità scientifica verranno sottomessi di Proposal per avere del tempo di osservazione e quello ne sono abbastanza orientato su Django sia la gestione dell'osservazione in sé cioè l'interfaccia con cui l'utente gestisce l'osservazione sempre tramite Django e anche il browsing dell'archivio dati sempre con Django al di sopra di tutto questo brevemente vi dico che mentre prima si utilizzava per gli astronomi utilizzavano Fortland e IDL in questi ultimi tre anni i software che sono stati sviluppati sono tutti scritti in Python sono troppo contento di questo è stato scritto un generatore di schedule per Nurag e la schedula diciamo è un file di testo in cui sono descritte tutte le operazioni che nel tempo dovrà andare a fare l'antenna il generatore di queste schedule che è un programma stand alone è stato scritto in Python è stato scritto un altro software in questi ultimi due anni che permette di vedere le sorgenti che sono visibili in un dato tempo nei tre radiotelescopi italiani e questo è scritto in Python utilizzando le PyFM mentre c'è un altro software importante che abbiamo utilizzato anche per il commissioning tecnico che è scritto in IDL ma l'autore anche qua sta pensando di passare a Python per vari motivi perché gli IDL paghiamo la licenza e ogni anno a due giorni dalla scadenza non sappiamo se verrà rinnovato oppure no perché è gestita a livello centrale e poi il linguaggio specifico mentre Python è general partner e poi soprattutto adesso c'è una libreria AstroPy che diciamo soppirisce ai limiti che c'erano prima mentre prima IDL era quasi una scelta forzata adesso c'è AstroPy che ha una 0.3 ma io sono andato a vedere ho visto il sito ho visto anche il codice e mi sembra che è una libreria veramente ben fatta sicuramente sarà il futuro in questo settore e per chiudere bellezza mi è arrivato proprio un'email avanti ieri che stiamo organizzando dei corsi di formazione del personale a livello centrale cioè per tutta l'INAF in Italia e ho visto che il primo talk sarà il primo seminario intitolato introduzione al linguaggio Python ok questo è tutto grazie 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 tantissimo Marco ci sono delle domande? su tutta la parte che dicevi ancora in sviluppo cioè tutta la parte di pipeline di data analisi e quindi storage e poi la parte di scheduling delle osservazioni uno avrebbe pensato che tutta quella parte poteva essere in parte riutilizzata da ALMA l'altro grande radiotelescopio che utilizza lo stesso ACS non riuscite a fare software re-use di quella parte? allora il software che facciamo lo riutilizziamo ma sui tre radiotelescopi cioè questo in realtà io vi ho parlato di SRT ma è un software che gira sia a Cagliari che su un radiotelescopio che abbiamo a Medicina è già difficile farlo abbastanza generico per diciamo per farlo girare su tutti e tre radiotelescopi anche la parte di gestione dell'osservazione credo che sia la mia idea era questa però ancora non ci abbiamo lavorato ma credo che sia già un obiettivo duro riuscire a farlo abbastanza generico per gestire tutti e tre radiotelescopi quello di ALMA specifico no poi la filosofia è diversa perché noi vorremmo gestirlo da remoto cioè non so se tra qualche anno l'audiotelescopio verrà gestito da remoto quindi vorrei fare stiamo pensando un'interfaccia che sia un'interfaccia web sostanzialmente mentre loro utilizzano applicazioni di desktop che in parte abbiamo anche utilizzato durante il commissione tecnico perché le punte a vedere sono comunque utili perché le a disposizione ti permettono di vedere tutti i componenti che hai attivi navigarci dentro però la gestione dell'osservazione ha uno scopo diverso diciamo da questo ci sono altre domande? per quanto riguarda lo scheduling hai dato un'occhiata ci sono applicazioni quelle utilizzate in campo spaziale del tipo Castor oppure Europa secondo me tutta quella parte lì la parte di missioni spaziali in particolare ha sviluppato una serie di scheduler che sono già fatti molto molto bene e secondo me cercare di riutilizzarli anche in altri campi può essere interessante quindi vabbè giusto come Flash Europa e Castor vale la pena dargli un'occhiata noi stiamo cercando di riutilizzarli per i progetti che stiamo facendo Europa è uno dei pochissimi esistenti utilizzati dalla NASA per esempio e che sono disponibili open source per cui uno può prenderli cercare di utilizzarli e già dentro hanno vabbè sono 30 anni di esperienza sulle missioni spaziali che possono siccome essere facilmente vabbè noi speriamo di riuscire a riutilizzarli però può essere utile secondo me in realtà può darsi che sia stato fatto perché lo schedule l'ha sviluppato un mio collega di Bologna già 4 anni prima che io arrivassi e non so su cosa si è basato comunque è una parte del sistema di controllo che funziona benissimo e abbiamo tempo per un'ultima domanda posto grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi